Sassi a Satie, occorre cominciare non avendo interessi. Accettare che un uomo sia un uomo. Lasciar perdere le nostre illusioni sull'idea di ordine, di espressione dei sentimenti e tutti gli imbonimenti estetici di cui siamo gli eredi. Non si tratta di sapere se Satie è valido. Egli è indispensabile. Sassi a Satie 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 Sassi a Satie